la visita di cortesia come sanno le cose sul fronte argomento no non lo so vediamo vediamo non posso dire niente il ragazzo c'è possibilità che rimanga all'intero comunque non sta a me non voglio neanche parlare perché non sono io il procuratore del giocatore quindi non fatemi domande a me si vedrà ma lei conosce bene anche tu Ram è pronto per la Serie A conosco bene sul papà soprattutto è un bravo giocatore un bravo giocatore un ragazzo in gamba intelligente bravo sono tutti e due bravi potrebbe fare anche al caso dell'inter e raggiungere la mano può fare al caso di tutte le squadre perché è forte grazie